Battle Royale Indica un punto di lancio per il team Gas diretto verso di voi, è meglio se vi spostate UAV nemico in volo Elimina tutti i bersagli nell'area operativa Ostile in discesa nell'area, occhio in alto UAV nemico in volo UAV nemico in volo Occhio dove spari Uccidete questo qui Attenzione, bombardamento di precisione UAV nemico in volo Abbattuto C'è attività nemica? Gas in arrivo Uccidete questo qui è la zona sicura Uccidete questo qui è l'area operativa Bersaglio a terra Uccidete questo qui è l'area Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Gas in arrivo Nuova zona scura contrassegnata Uccidete questo qui è un lancio di equipaggiamento in arrivo Uccidete questo qui è un lancio di equipaggiamento in arrivo Sparano una terra Mi stanno sparando Ma Usad intentional Abboli Calma Usad Per Arriva il gas UAB nemico in volo C'è attività nemica Pronti a ingaggiare Attenzione, bombardamento di precisione alleato in arrivo C'è attività nemica Disparano a tutti Che restano solo dieci L'ho fatto fuori io Gassi in arrivo Zona sicura riposizionata Saute in corso Prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati Una protezione Fucile di precisione Fucile di precisione Sta alla ingatina Prezzi tornati alla normalità Calde in Aspinalia Avete del gas in arrivo. C'è attività nemica. Siamo nella zona sicura, pronti a incacciare. UAPI nemico in volo. C'è attività nemica. C'è attività nemica. Gas in arrivo. Zona sicura riposizionata. Posizione marcata. Vado. Ostile in discesa nell'area. Occhio in alto. Dona marcata. Andiamo. C'è attività nemica. Gas in avvicinamento. C'è attività nemica. Gassi in arrivo. Alla nuova zona sicura. C'è attività nemica. Mi muovo. Ne restano solo cinque. Finisci il lavoro. State perdendo terreno. Zona sicura è lontana. Sbrigiamoci. Mi muovo. Gassi in arrivo. Alla nuova zona sicura. Alla nuova zona sicura è lontana. Sbrigiamoci. Obiettivo principale completato. bella... bella... Grazie a tutti.